Amici di Catanzaro Sport24.it, appassionati di grande calcio, un saluto da Andrea D'Agiano. Oggi per la 36esima giornata di campionato andiamo a vedere il Foggio prossimo del Salve del Catanzaro, partita che si disputerà lunedì 11 aprile alle 21 allo stadio Pino Zaccheria, abitra Giuseppe Collu di Cagliari. Il cammino del Foggia fin qui dice 54 punti in piena zona playoff. Foggia che ha realizzato 63 reti e ne ha subiti 45. Ma adesso andiamo a vedere la prova per le formazioni di Zeman. Per lunedì sera Foggia con il classico 4-3-3, dal Masso in porta Rizzo e Garattoni sugli esterni, Di Pasquale e Sciacca al centro della difesa, Rocca, Peterman e Gallo alla manovra del centrocampo e poi il tridente Turchetta, Merola e Curcio. Grazie a tutti.